Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e questo piccolo video mi serve per presentare questa ultima fatica, siamo nel settembre del 2018, ISDIDA 3. ISDIDA 3 è una chiavetta, nuove tecnologie didattiche in tasca, applicativi, facilitazioni, video guide, formazioni e informazioni, tutto racchiuso in una chiavetta. Qui in queste immagini appunto vedete il tipo di scuola che io vorrei proporre attraverso questa ISDIDA 3. Il tipo di scuola che intendo promuovere con questa scuola è una scuola dell'inclusione, ovvero creare le condizioni perché tutti possano partecipare all'operazione messa in piedi della didattica. Ecco, questa è un'immagine rara di Don Milani che appunto apre un argomento dove tutti possono inserirsi ai vari livelli. E per fare questo però ci è bisogno di alcuni strumenti, alcuni strumenti che ci devono facilitare in questa operazione di compartecipazione. Allora, ISDIDA nasce da un'idea che spesso le tecnologie nuove sono un imbroglio, ovvero affaticano la didattica e non permettono di esprimere le loro personalità, le loro potenzialità, perché hanno incompatibilità di formati, versioni che non dialogano, diversi sistemi operativi nelle scuole e nelle classi, impossibilità di dare ai ragazzi lo stesso software, il libro in fondo metteva tutti sullo stesso piano, costi per licenze impossibili da affrontare per le scuole e molto spesso anche per le famiglie, un grande desiderio di legalità, smettere di dire io ti do il programma, copiatelo, clonatelo, crackatelo e continui le necessità di aggiornamento per cambio di interfaccia dei sistemi. Quindi anche insegnanti che non hanno diritti sui pc della scuola, bambini che non possono usare il computer dei genitori perché non hanno le password. Quindi tutte queste cose in realtà danneggiano la didattica con le nuove tecnologie, c'è bisogno di uno scatto, c'è bisogno di un'idea, ecco questa è l'idea, cosa posso fare? Posso utilizzare software libero, Islida è solo software libero, software libero di qualità, selezionato da me, il mio gruppo di lavoro, che permette queste cose, di aggirare questo ostacolo. È una storia che viene da lontano, viene già dal 2015 quando io ho pubblicato il kit pc di S.A. con l'intenzione di aiutare i ragazzini nella loro fatica, allestendo il computer con dei programmi liberi per il loro apprendimento. Però mi sono reso conto che il problema non sta nei ragazzini e le tecnologie che non hanno, il problema sta nella didattica che l'insegnante fa, perché anche se hanno un sacco di tecnologie, la didattica se non prende innovazione, non si muove, gli insegnanti non la sanno usare, ecco siamo appunto a capo. Quindi ho pensato di realizzare questo Islida, facile didattica, è rivolto più agli insegnanti che agli ragazzi e è uno strumento che facilita questo dialogo, supera i problemi di versione, è per Windows, potete usarlo da Windows 7 a Windows 10 e permette di mettere tutti attorno a un tavolo e lavorare tutti con lo stesso sistema, con gli stessi software, con gli stessi applicativi. Allora vediamo che cosa è Islida 3. E quali sono le novità rispetto a Islida 2? Perché ho già fatto l'1 e l'2? Ecco, è una raccolta di applicativi, software che funziona per Windows, Linux e Mac, libero, e anche su di Linux. Dentro c'è un ambiente di formazione, una selezione installabile e una portabile, è gratuito, basta scaricarlo e metterlo su una chiavetta, è libero dai formati, perché usando questi formati qui, LibreOffice fa dei formati leggibili anche da Word, legge tutti i formati di Mac e di Microsoft. Con alcune novità, Islida 3, in Islida 3 sono stati aggiornati tutti gli applicativi all'oggi, quindi che risentono dell'aggiornamento di Windows 10, l'ultimo aggiornamento, c'è OpenBoard per la lavagna interattiva portabile, si può avere un software che va su tutte le lavagne con tutti i PC dentro la chiavetta e si porta presso anche le tavole che voi farete, è GeoGebra portabile e installabile, novità è il PDF Exchange per leggere i testi digitali dei DSA portabile, un'app per digitalizzare il testo, io ho detto che lo scrive, e una bella videoguida su OpenBoard. Queste sono le novità di Islida 3. Ecco, ogni software è spiegato con una videoguida, come spiega questa diapositiva, e dall'ambiente di CMAP si può saltare sull'ambiente di SD quadro, per quel che riguarda la formazione. Quindi Islida è anche formazione, perché entrando dentro l'ambiente del CMR si può avere formazione gratuita e certificata sui testi, sugli argomenti e i temi messi a disposizione. Allora, Islida è fatta così. Appena uno la scarica da internet, dal mio sito www.francesco-fusillo.it www.francesco.it è uno zip, lo scarica, lo scompatta in una chiavetta, e trova una parte installabile con applicativi da installare, è una parte portabile che funziona direttamente dalla chiavetta che avete installato. Una videoguida, che è questa che sto facendo, e la presentazione, e i riconoscimenti per i software che ho potuto usare, che sono stati sviluppati e messi a disposizione da altri sviluppatori. È una chiavetta consistente di circa 5 giga, quindi va scompattato Islida in formato zip in una chiavetta da almeno 8. Dentro c'è 14 applicativi, i più importanti per creare didattica, per fare video lezioni, per fare audio lezioni, per navigare in internet, un office completo, completo, un software per le mappe, PDF exchange per poter modificare i PDF, fast all capture per catturare immagini da qualsiasi fonte, leggi per me per poter leggere i testi digitali, e qualsiasi testo si presenta a monito. Un programmino per diventare veloci nella scrittura con la tastiera, open board per gestire le lavagne, GeoGebra per creare la geometria sulla lavagna interattiva, anche sul PC, e capire i movimenti che può avere, Posterazio per trasformare tutto quello che si fa, e che si può stampare con questo Islida, in un cartellone, e poi una guida a risorse online certificate, in qualche modo selezionate da me. Adesso faccio vedere la parte portabile, come dicevo due cartelle grosse, più o meno portabile abbiamo gli stessi applicativi, funzionano con un click dal file esecutivo, tutto lì, come vedete sono quasi tutti, quindi la chiavetta diventa il vostro micro laboratorio, con i vostri software, li potete mettere in qualsiasi PC, cliccare l'esecutivo e funziona. Cosa ci posso fare, questo Islida per la didattica? Posso fare un sacco di cose, documentare quello che faccio, audio, video, quindi fare piccole video lezioni, come quella che sto facendo, usare più media, quindi per poter dialogare con i ragazzi, fare mappe concettuali, per sistematizzare la conoscenza, operare la LIM, ho un office eccezionale, che dato a tutti i ragazzi, permette a tutti i ragazzi, di dialogare perfettamente, e anche dialogare con Google App, chi le ha, chi ce l'ha, Firefox per poter navigare, ma anche poter downloadare video, audio e cose didattiche, da siti importanti che le mettono a disposizione, quindi c'è un Firefox organizzato per il download, e ovviamente condividere i lavori sul web, grazie a Firefox, che vi proiettate in rete, nella maniera più sicura possibile. Islida vuole essere anche uno strumento per l'inclusione, perché avendo più linguaggi, messi a disposizione alla didattica, permette di creare opportunità per tutti questi ragazzi, che sono a scuola con noi, fanno parte del nostro compito istituzionale, ma anche compito umano, è un compito professionale, quindi Islida ci mette a disposizione, gratuitamente, degli strumenti che generano didattica, non è una didattica esercitativa, è la possibilità di creare didattica, l'editing didattico, la professione degli insegnanti, con nuovi strumenti, che dialogano fra di loro, che non si imbrogliano, che durano nel tempo, e che vedono file fino a anni e anni nel passato. Questo è il tipo di scuola che io vorrei proporre con Islida, sono stato un po' lungo, sono dieci minuti, ma vi ringrazio per l'attenzione, Islida si scarica da questo sito, www-francescofusillo.it e da altri siti basta cercarlo, Islida 3, non Islida 2, lo toglierò dalla rete, quindi non si potrà più scaricare, e mi auguro che possiate condividere questa risorsa, facendola copiare ai ragazzini sulle loro chiavette, facendola diffondere nella scuola installata sui vari personal computer, qualsiasi versione di Windows hanno, a parte XP, non riesco più a sopportarle, nello sviluppo, e quindi usate Islida e fatene buon uso per una didattica che sia innovativa, ma anche il più possibile inclusiva. Francesco Fusillo per la guida di Islida 3, buona sperimentazione di Islida.